Ma il mio ricordo più grande è legato proprio al posto che c'è, al muretto che c'è davanti la parrocchia. Io sono cresciuta all'interno di questa parrocchia, ero piccola quando giocavo con gli altri bambini, con l'elastico, con la palla davanti alla chiesa, ma di generazione in generazione, cosa che si è persa purtroppo nel tempo, vedevate proprio un percorso, quindi dall'interno della parrocchia ai gradini che ci sono vicino al campetto sportivo e addirittura scendo poi nel muretto che c'è davanti la parrocchia. Quindi c'era proprio un percorso di crescita accompagnato da questi spazi. E lì andavo a giocare accompagnata da mio nonno che spesso lasciava i suoi amici proprio per sarsi accanto a me e farmi crescere fra la fede, ma soprattutto farmi crescere in una grande società come quella dell'Orenella.